Sarà una vera e propria campionaria dell'eccellenza, eccellenze di natura enogastronomica, perché a farla da padrona ci saranno negli oltre 30 stand, ospitati in una grande e tenso struttura, i migliori prodotti e i migliori sapori della Puglia contadina e di altre regioni. Madrina della manifestazione sarà Maria Carmela Lanzetta, ministro per gli affari regionali, alla quale toccherà il compito di tagliare il nastro nel corso della cerimonia inaugurale. In arrivo a Trigiano oltre una cinquantina di operatori provenienti da un po' tutto il mezzogiorno, isole comprese, in questo caso la Sicilia, la cui peculiarità sarà data dalla presenza delle classiche e irripetibili delizie dolciarie. L'evento sarà anche una vetrina dedicata alla degustazione dei prodotti locali. Ad aglietare i palati più esigenti non mancheranno le tradizionalissime orecchiette e altra pasta fatta in casa. Il vino delle cantine Menhir di Minervino di Lecce, l'olio biologico di Sandonaci, il caffetto refatto a Trigiano, il miele prodotto nella vicina Basilicata e l'immancabile pane di Trigiano cotto nei forni a legna che attraverso un consorzio locale ambisce al riconoscimento di importanti marchi di qualità. Il tutto farà un po' di assaggio a quella che potrebbe in futuro diventare Trigiano e Fiera, la cui organizzazione è stata affidata all'associazione musicale CPM Eventi attraverso il sostegno di sponsore del Comune, che ha messo a disposizione 12.000 euro. La fiera nasce in piccolo ma pensa in grande, nell'ambito delle politiche di marketing territoriale, lo farà attraverso la partecipazione con altre associazioni Cuore della Puglia e le città del crocifisso, con lo scopo di fare rete e di pubblicizzare anche a livello nazionale attraverso Expo 2015 i prodotti di eccellenza.